Il Padre e il Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come in mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste, Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti che sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana, regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino. Estretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io credo solo in te, Gesù. Tu in me, io in te, Gesù. 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 Dal Libro di Cielo, volume 4, capitolo 122, 23 marzo 1902. Dopo aver molto ostentato è venuto il mio dolcissimo Gesù e mi ha detto Figlia mia, l'appoggio della vera santità sta nella conoscenza di se stesso e Dio. Davvero? E lui? Certo, perché la conoscenza di se stesso disfa se stesso e si appoggia tutto nella conoscenza che acquista di Dio, in modo che il suo operare è lo stesso operare divino, non rimanendo più nulla dell'essere proprio. Poi al soggiunto, quando l'interno si imbeve, si occupa tutto di Dio e di ciò che a lui appartiene, il Dio comunica se stesso all'anima. Quando poi l'interno si occupa ora di Dio, ora di altre cose, il Dio si comunica in parte all'anima. Capitolo 123, 27 marzo 1902 Trovandomi fuori di me stessa, sono andata cercando il mio dolcissimo Gesù e mentre giravo, l'ho visto in braccio alla regina madre, stanca come stavo, tutta ardita, l'ho quasi strappato e me lo sono preso fra le mie braccia dicendogli Amore mio, questa è la promessa di non dovermi lasciare, mentre nei giorni scorsi poco o niente ci siete venuti, venuto, ed egli Figlia mia, con te ci stavo, solo che non mi hai veduto con chiarezza. E poi se i tuoi desideri fossero stati tanto ardenti da bruciare il velo che ti impediva di vedermi, mi avresti certo veduto. Poi, come se avesse voluto farmi un'esortazione a soggiunto, non solo devi essere retta, ma giusta. E nella giustizia entra l'amarmi, lodarmi, glorificarmi, ringraziarmi, benedirmi, ripararmi, adorarmi, non solo per sé, ma per tutte le altre creature. Questi sono diritti di giustizia che esigo da ogni creatura e che come creatore mi spettano, e chi mi nega uno solo di questi diritti non può dirsi mai giusto. Perciò, pensa a compiere il tuo dovere di giustizia, che nella giustizia troverai il principio, il mezzo e il fine della santità. Bene, ci fermiamo subito qui perché questi due capitoletti, nella loro brevità, sono però molto intensi e contengono degli insegnamenti molto importanti che richiederebbero certamente lunghe meditazioni, quando non proprio approfondite catechesi. Il primo, la conoscenza di se stessi e la comunicazione di Dio all'anima. Gesù formula una frase apotittica e importantissima. L'appoggio della vera santità sta nella conoscenza di se stesso. Per comprendere questa conoscenza di se stesso, sempre bene, a mio modestissimo avviso, rileggere con una certa frequenza i passaggi sulla conoscenza di se stesso mirabili che San Luigi Maria Monfort scrisse nel trattato della vera devozione. Sono bellissimi. Perché la conoscenza sapienziale di se stesso, che è un dono che sempre la Madonna fa all'anima, infallibilmente, produce grandissimi frutti di santità. e porta la persona ad una profonda e sana e santa forma di disprezzo di se stessi. Scrive San Luigi, tra le altre cose, con la luce che lo Spirito Santo ti darà a proposito della conoscenza sapienziale di sé, per mezzo di Maria, sua cara sposa, conoscerai il tuo fondo cattivo, la tua corruzione e la tua incapacità di ogni bene se Dio non è il principio come autore della natura e della grazia. La frase è pesantissima questa qui. Cioè, qualunque cosa di bene possa uscire da noi, non uscirebbe, se Dio non ne fosse il principio, perché ci ha comunque dato dei doni e delle facoltà naturali. Cioè, se io dico una buona parola, io la posso dire, anzitutto perché ho le corde vocali e perché ho l'intelletto che mi fa parlare, ma le corde vocali e l'intelletto che mi fanno parlare non ce l'ho da me stessa, ce l'ho perché Dio me la date. Quindi anche da un punto di vista meramente naturale e della grazia. Perché se la grazia di Dio non mi proviene, non mi accompagna, non mi prende per mano, io non dico buone parole, io dico pessime parole. E ne facciamo continuamente esperienze. Quindi se me ne esce qualcosa di buono, sto agendo sotto ispirazione divina, sotto mozione divina, non è un qualche cosa che viene da me. E allora che succede? In forza di tale conoscenza ti disprezzerai e riconoscerai la tua profonda miseria. Questo non è il disprezzo distruttivo di se stessi che Dio non vuole, proprio dalle persone depresse o che giungono poi addirittura nei casi più gravi a suicidarsi. D'accordo? Questo è un disprezzo malato ed è figlio della superbia o di altre problematiche profonde psicologiche. Questo è il disprezzo santo, cioè il disprezzo soprannaturale, divino, nella condizione in cui mi trovo di natura decaduta, ma anche se la natura decaduta non fosse, perché questa umiltà ce l'aveva anche la Madonna, io sono il nulla. proprio il sentirsi e riconoscersi tali è una condizione imprescindibile per vivere nella Divina Volontà, però imprescindibile, perché solo il nulla può essere riempito dal tutto. Prosegue, ti considererai come l'umaca che tutto insudicia con la sua bava o come il rospo che tutto infetta col suo veleno o come serpente malizioso che cerca soltanto di ingannare. Insomma, l'umile vergine ti renderà partecipe della sua umiltà profonda, per cui ti disprezzerai, non disprezzerai nessuno, attenzione, e amerai di essere disprezzato. In un'altra sezione del trattato San Luigi rincara la dose prima e contemplando la condizione dell'uomo decaduto dice queste parole a proposito della conoscenza di se stessi. la nostra anima unita al corpo questa è la sezione del paragrafo 79 del trattato della vera devozione è divenuta così carnale che viene chiamata carne ogni vivente ogni carne traduzione letterale aveva corrotto la sua vita questo è una citazione del libro della genesi abbiamo per eredità l'orgoglio e l'accegamento dello spirito l'indurimento nel cuore la debolezza e l'incostanza nell'anima la concupiscenza le passioni rivolta e le malattie nel corpo basta no c'è ancora siamo per condizione naturale più superbi dei pavoni più attaccati alla terra dei rospi più brutti dei capri più invidiosi dei serpenti più golosi degli animali immondi più collerici delle tigri più pigri delle tartarughe più deboli delle canne più incostanti delle banderuole abbiamo di nostro il nulla e il peccato ed altro non meritiamo che l'ira di Dio e l'inferno eterno di questo non è che dovremmo esserne convinti di più di più e ci sono delle pratiche devote che fanno i consacrati totus tus proprio la mattina baciando la terra si ripetono queste parole io sono il nulla più il peccato non merito altro che l'inferno sono da me stesso incapace di compiere alcuna azione utile alla salvezza la prima cosa si ricorda la mattina appena svegliati prima ancora di fare atto preventivo perché la memoria va sempre rinfrescata su queste cose guardate che il commentare questo che abbiamo letto ci vorrebbe veramente una categoria si lunga due ore insomma l'orgoglio l'accecamento dello spirito l'indurimento del cuore debolezza incostanza nell'anima concupiscenza passione rivolta a malattie la superbia l'attaccamento alla terra siamo proprio bruttarelli si diventa belli nella misura in cui si diventa divini ma lasciato noi stessi siamo proprio brutti l'invidia che molti commettono e quasi nessuno confessa la golosità oggi i nostri contemporanei sono malati sono capaci di fare sacrifici per la linea ma chi non fa sacrifici solo per la linea non per altri motivi si sbraga e mangia per la gola cioè vuol dire che quando vediamo qualcuno che è un pochino sovrappeso vuol dire che l'amore alla gola è più grande dell'amore alla linea questo è più collerici delle tigri lira più pigri delle tartarughe poi questo più deboli delle canne la nostra debolezza e più incostanti delle bande ruole perché cambiano direzione a seconda di come gira il vento senza nessuna resistenza ecco riprendiamo quello che commenta Gesù la conoscenza di se stesso disfa se stesso quando uno ascolta queste cose e legge queste cose disfa se stesso quindi comincia a concepire mamma mia che disastro ma è in senso buono il comportamento che segue questa presa di coscienza non è la disperazione ma è la vera umiltà profonda bene questo io sono e ci penserà il nostro signore a riempirmi di sé dato che a me non c'è niente disfa se stesso e si appoggia tutto nella conoscenza che acquista di Dio in modo che il suo operare è lo stesso operare divino non rimanendo più nulla dell'essere proprio se io so che sono fatto così è chiaro che per me sarà molto facile facciamo adesso gli esempi della vita della divina volontà ma io non faccio un atto senza essermi unito prima alla divina volontà perché non voglio che quell'atto abbia me stesso come principio perché se ha me stesso come principio sarà un atto rovinato sicuramente non farò tutto quello che mi passa per la testa così perché so che i pensieri che mi passano per la testa sono pensieri mossi da queste cose sono pensieri mossi dalla superbia sono pensieri mossi dall'invidia sono pensieri mossi dalla gola sono pensieri mossi dall'ira d'accordo sono pensieri mossi dal fatto che sono cieco che sono orgoglioso quindi farò attenzione a cercare in tutte le cose piccole e grandi quello che Dio vuole non quello che mi passa per la testa e conscio che se rimango da solo con me stesso combino solo guai cercherò di stare il più possibile con Dio anzi dice Gesù occuparsi tutto di Dio e di tutto ciò che a lui appartiene e qui c'è un'amplice campo di azione nella nostra vita anche comune quotidiana se te ti chiedi in un momento qualunque della giornata che cosa stai facendo che cosa stai pensando che cosa stai dicendo che rispondi perché la risposta giusta dovrebbe essere sto pensando al Signore sto parlando del Signore o col Signore e sto operando per il Signore con il Signore nel Signore qualunque cosa tu stai facendo la doccia o la stessa cosa stai mangiando la stessa situazione più comune la stessa cosa se ti stai tagliando i capelli la stessa cosa poi le cose più importanti stai lavorando stai scrivendo stai viaggiando stai camminando la vita nella dina volontà ricorda Gesù negli scritti in un passo dice a Luisa tu devi fare come se esistessimo al mondo solo io e te ovviamente queste cose penso che sia inutile però pura non nocent dicevano i romani non significa che uno vive da mezzo matto alienato insomma che sta non parla con nessuno non guarda nessuno perché deve stare con Gesù no ma significa che la connessione con Lui non si interrompe mai cioè che se anche io sto non lo so sto parlando con una persona sto facendo un servizio a una persona sto lavorando sto occupandomi di una cosa non cessa la mia connessione con Gesù la mia unione con la divina volontà e il fatto che io quella cosa la sto facendo che cosa dice l'atto di fusione Gesù facciamo tutto insieme fondiamoci a vicenda nei desideri nella volontà e nell'amore facciamo tutto insieme d'accordo perché Gesù ha già fatto nella sua vita come sappiamo tutto quello che noi potremmo e dovremmo fare sono già fatti tutti quanti i nostri atti bisogna semplicemente riprenderli e rifarli noi i suoi facendoli nostri allora Gesù spiega e conclude se veramente l'interno si imbeve bellissima questa immagine proprio è come una spugna intriso si occupa tutto di Dio e di tutto ciò che a lui appartiene tutto però questo è un termine fondamentale nei rapporti con Dio tutto di Dio e di tutto ciò che a lui appartiene il Dio comunica tutto se stesso all'anima se invece l'interno si occupa ora di Dio ora di altre cose che sono le famose uscite le zone d'ombra della dina volontà il Dio si comunica in parte breve paragrafetto ma molto importante poi abbiamo l'altro che se per certi aspetti è ancora peggio allora Gesù dice punto primo Luisa si lamenta come al solito Gesù gli aveva fatto le promesse non ti lascerò mai staremo sempre insieme e dice nei giorni scorsi poco o niente ci sei venuto ma che promesse fai interessantissima la risposta di Gesù numero uno con te ci stavo ma non mi hai veduto con chiarezza attenzione se i tuoi desideri fossero stati tanto ardenti da bruciare il vero che ti impediva di vedermi mi avresti certo veduto mi ha lasciato molto molto edificato e santamente sconvolto questa frase sono i desideri che squarciano i vedi dei cieli e ottiene grandi grazie da Dio solo vi è capace di desiderare in grande ma desiderare sul serio c'era uno scritto insomma nei giorni scorsi forse ne ho parlato anche qualche altra meditazione perché mi ha lasciato sconvolto di quando Luisa dice scusa un attimo ma se sta cosa è così bella e così importante non soltanto perché non l'hai rivelata prima questo è un altro discorso ma perché non gliela dagli uomini sbrigati a dagliela se poi tu ci godi che vivano in maniera divina se li hai creati per questo ma scusa dagliela prenditelo questo godimento e dice ma io non posso dare una cosa di questo genere così cioè io posso dare una cosa di questo genere a chi la desiderata con tutto il cuore a chi è disposto a dare la vita pur di averla perché questo è il bene più grande che esiste nell'universo non può essere come dire vissuto o ricevuto in maniera inconscia inconsapevole o sconsiderata perché fa l'esempio forse l'ho detto nei giorni scorsi però non ho parlato talmente tanto di questa cosa che non mi ricordo i contesti sarebbe come se tu dissi un assegno di un miliardo di euro a un bambino di 4 anni di 3 anni che ora non sa neanche cos'è un assegno quindi che ci fa con l'assegno o lo strappa e lo butta al secchio oppure non lo so vede il fuoco diciamo buttiamo un po' e così si ravvia un pochino la fiamma e butta un assegno di un miliardo di euro lo può dare a un bambino allora chi molto desidera chi molto in alto desidera molto in alto arriva ma un desiderio che non è un desiderio passeggero è un desiderio ardente un desiderio che poi diventa che hai capito cioè perché la prova dei desideri quando noi desideriamo qualcosa proviamo a vedere gli esempi del mondo facciamo gli esempi delle cose che tanto lettano i nostri contemporanei tu desideri un bell'iPhone nuovo d'accordo ma lo desideri sul serio allora aspetti che esce il modello poi vedi come ci ha pensato che faccio che non faccio me lo posso permettere non me lo posso permettere faccio il finanziamento ma vendo cioè fino a quando non ce l'hai cioè tu ci pensi che hai capito organizzi ci pensi perché devi e nel limite del possibile se la desideri tanto una cosa c'è lavoro in bel po' gli uomini questo lo fanno per tutti quanti i diletti della vita oppure chi vuole andare tanto in vacanze in un posto mette da parte i soldi cerca i voli più convenienti non lo so l'albergo che costa pensiamo quando uno ha un hobby per esempio che ci tiene tanto uno sport gioca a pallone va in bicicletta va a cavallo non lo so quello che gli pare magari c'è la famiglia c'è la moglie che sta col fiato sul colo ma fate tutto per ritrovarsi quel tempo per soddisfare quella cosa che lui tanto desidera che tanto gli piace questi sono i desideri veri d'accordo ti desidero tanto un po' però non mi frega non ci penso mai a te dalla mattina alla sera ma che desideri non lo desideri è un desiderio passeggero d'accordo è una pia illusione o una velleità Dio non dà cose grandi se quelle cose non sono profondamente desiderate cioè quando è venuto il verbo incarnato lo spiega che ci sono gli scritti dopo millenni di preghiere di sospiri di profezie più 15 anni di atti divini fatti dalla madonna mi ricordo che il passo o cieli piovete dall'alto o nughi fateci piovere non ce la facciamo più qui si campa male vogliamo essere redenti ma non c'è pietà nostro Dio mio insomma Abramo viene nel 1850 avanti Cristo sono passati 1850 anni mica una settimana insomma è tantissimo sono tantissimi 1850 anni quindi prima di avere le liberazioni fatte a lui sono passate in arte 2000 e tutti gli atti fatti da milioni di martiri santi penitenze preghiere sacrifici e padre nostri detti noi sappiamo che Gesù ci ha messo la santa trappola per la divina volontà perché ce l'ha messo in bocca nel padre nostro di chiedere l'avvento di questo regno anche se non ne capivamo fino in fondo tutte quante le estreme conseguenze perché ad veniat regnium tu un fiat volontas tua si poti in cielo e in terra sappiamo essere il fiat santificante il regno della divina volontà ma quanti padri nostri sono stati detti da quando Gesù l'ha insegnato fino al 1902 la data di questi scritti che ancora non c'è un'ancora chiara percezione del dono della divina volontà che è successiva e posteriore viene qualche anno dopo quanti padri nostri hanno detto in 1900 anni non si sa quindi è la forza dei nostri desideri che attira Gesù nei nostri cuori e chi riceve poco da Gesù desidera poco ma cosa dice Gesù nel Vangelo quando Maria Maddalena gli va a baciare i piedi a piangere quindi a esporsi davanti a tutti a farsi dire un sacco di parolacce un sacco di ammiccamenti che gli hanno detti pure a Gesù che era l'amico della donnace eccetera eccetera quello a cui si perdona poco ama poco le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato cioè Maria di Magdala come dire l'ha conquistato il cuore di Gesù perché starà capace e dice ah sì bene io non ho fatte da tutti i colori ma proprio di tutti ma te faccio vede io io farò facendo il contrario andrò oltre nel bene al male che ho fatto e questo l'ha fatto Maria di Magdala e che cosa ha conquistato il primato nel cuore di Gesù con tutti anche qui con tutte quante le bestemmi le bestialità che hanno detto nel corso della storia Maria di Magdala è stata tanto amata da Gesù è stata la prima testimone della risurrezione tra le creature eccettuate la Madonna Gesù è apparso per prima a lei e Maria di Magdala insomma si è data fa non è che scherzava quando era peccatrice è successo anche in altre circostanze della storia insomma con la beata Angela da Forigno non ci ha parlato in altre meditazioni insomma una delle più grandi mistiche di tutti i tempi insomma da un punto di vista mistico non c'è niente da invidiare a Luisa però lei racconta e dice la verità che i primi 30-35 anni della sua vita sono da dimenticare da stenderci un velo pietoso e così è poi Gesù dice un'altra cosa l'ultima e poi chiudiamo dice tu non devi essere soltanto retta la rettitudine tu devi essere giusta parla della virtù che ha dire della giustizia che noi pensiamo subito ma qui parla della giustizia verso Dio quella che poi tecnicamente si chiama la virtù di religione e enumera una serie di obblighi di giustizia attenzione di giustizia verso Dio che noi ci pensiamo poco nella giustizia entra l'amarmi cioè amare Dio è giusto giusto vuol dire che cosa dovuta lodarmi glorificarmi e ringraziarmi cosa dice il sacerdote nel prefazio è veramente cosa buona è giusta nostro dovere oltre che fonte di salvezza dovere rendere grazie sempre in ogni luogo a te signore padre santo è un dovere non è un favore che tu fai oggi mi vado ringraziamo ogni tanto il signore diciamogli ogni tanto no no che ti dice questo è un dovere di giustizia amarmi lodarmi glorificarmi dargli gloria in quello che facciamo ringraziarmi benedirmi ripararmi cioè se abbiamo fatto un guaio noi lo dobbiamo riparare per giustizia davanti a Dio e se non ce la dà il confessore la benedienza la facciamo noi e deve essere uguale e contrario a quello che noi abbiamo fatto la riparazione è un dovere grave non è un optional e adorarmi adorare il signore è un dovere grave chi non piega le ginocchia davanti a Gesù perché le ginocchia davanti a Gesù si devono piegare scrive San Paolo in cielo sulla terra e sotto terra fa una grave violazione alla giustizia dovuta nei confronti perché le ginocchia dinanzi a Gesù si devono piegare noi diciamo te faccio un favore faccio la genuflessione però oggi invece non me va e sto in piedi sta in piedi è un peccato grave contro la giustizia dovuta al signore non è finito quindi questa non è soltanto una cosa tua personale nella giustizia entra l'amarmi rodarmi l'unificarmi ringraziarmi benedirmi ripararmi non solo per sé ma per tutte le altre creature ecco che qui Gesù comincia a spiegare alcune dinamiche dei giri per te e per tutti io per legrinaggio non la divina volontà tutti quanti i giri che si fanno nel fiat creante re di mezzo santificante perché quello che non fanno gli altri lo fai tu per gli altri e dice Gesù quindi preoccuparti che questo sia fatto bene non solo per te ma anche per tutti gli uomini che mancando la giustizia non lo fanno nei miei confronti e tu devi farlo per loro devi farlo per loro capito e prosegue questi sono diritti di giustizia che esigo da ogni creatura sono parole forti di Gesù eh diritti di giustizia quindi non sono favori che io esigo non è che sai li chiederei vorrei Gesù è diverso la Madonna non parla mai in questi termini la Madonna è sempre dolce nel dire le cose dice sempre vi invito figli miei vi desidero vi esorto perché la Madonna allora la Madonna non è una dea è qui Gesù Cristo certamente Gesù è buono ma Gesù Cristo è Dio quindi può esigerle queste cose per giustizia esigo da ogni creatura e che come creatore mi spettano e chi mi nega uno solo di questi diritti attenzione non può dirsi mai giusto perciò pensa a compiere il tuo dovere di giustizia tanto che chiacchierà che vengo o che non vengo d'accordo dice Gesù quella è un optional tu vedi di fare quello che devi fare nei miei confronti perché nella giustizia troverai il principio il mezzo il fine della santità attenzione alla giustizia qui la meditazione è finita ma molto sarebbe anche da riflettere sulla giustizia e sull'osservanza della giustizia nei confronti del prossimo molte cose in cui noi manchiamo nei confronti del prossimo sono delle reali violazioni della giustizia cioè che non si dà al prossimo quello che è suo quello che gli spetta o peggio glielo si toglie tanto per fare un esempio parlare di una persona cioè togliergli l'onore la buona fama è una mancanza grave alla giustizia perché il diritto alla buona fama e all'onore fa parte della dignità della persona non lo può toccare a nessuno per cui se tu spargli di qualcuno sei un ladro gli togli una cosa che non è tua ti prendi una cosa che non è tua e la togli a un poveraccio bene bene grazie a tutti grazie a tutti Bellissimo Santa Vergine Divina Maria Le cose su cui oggi abbiamo meditato Sappiamo quanto è importante la tua mediazione Come ci insegnava San Luigi Nell'importantissima e mai sufficientemente compiuta L'operazione di conoscenza sapienziale di noi stessi Noi possiamo sprofondare insieme con te nel nostro nulla E accompagnati da te, perché questo non ti riguarda Anche nel nostro peccato Per diffidare completamente di noi Santamente di sferenzarci E ad aprirci a Dio solo E a farci riempire di Lui, dei Suoi doni e della Sua grazia Che possiamo imparare da te la forza ardente Dei santi desideri che tu eri Che in te erano incessantemente vivissimi Altissimi, attivissimi E imparare da te la perfezione con cui Non soltanto Dio si ama Ma Dio gli si dà Come ci ha insegnato Gesù Quello che gli è dovuto E che tu ovviamente Sei stata in assoluto la prima A farlo perfettamente Non solo per te Ma e di questo ti ringraziamo Anche per tutti noi Nella Divina Volontà Nel nome del Padre Del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque nella Divina Volontà Nel nome del Padre Del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria